Vantano mensilità arretrate da marzo 2013. Il loro contratto è scaduto il 22 dicembre 2013 e non essendo stati ancora licenziati non possono beneficiare nemmeno degli ammortizzatori sociali. Sono i 13 operatori della cooperativa Petit di Patti impegnati part-time nel centro di riabilitazione di via Roma a Barcellona. Hanno garantito l'assistenza a 48 disabili del distretto sociosanitario della città del Longano. Si trovano attualmente in un limbo perché oltre ad essere senza lavoro e non aver percepito ancora nove mesi di salario vedono il loro futuro senza prospettive. Della loro vertenza si è discusso il 2 gennaio scorso nella sede della CGL di via Roma a Barcellona alla presenza del segretario Salvatore Chiofalo. È stato riferito che sia in attesa dell'indizione di una nuova gara ora che come ha dichiarato in precedenza l'assessore servizi sociali del comune di Barcellona Lina Panella il distretto sociosanitario ha riproposto il progetto in attesa che vengano rifinanziati i progetti della legge 328. La CGL dal canto suo si è subito attivata per chiedere un incontro alla cooperativa Petit, sollecitare le procedure di licenziamento, l'invio di una specifica nota al comune di Barcellona e alle organizzazioni sindacali con i nominativi dei lavoratori licenziati e le loro mansioni per i successivi adempimenti. Trascorsi questi passaggi in base all'articolo 37 del contratto collettivo nazionale delle cooperative sociali potranno essere riassunti dalla ditta che vincerà la nuova gara ma in questo lasso di tempo nell'attesa di ottenere le aspettanze retrate potranno anche beneficiare degli ammortizzatori sociali.